E' un dovere degli imprenditori e commercianti denunciare tentativi di usura e distorsione da parte della criminalità organizzata, quella proveniente soprattutto dalla Puglia e Campania. Le mafie si infiltrano nell'economia legale del territorio molisano, mettendo in ginocchio i comparti delle costruzioni, movimento terra, ristorazione e agricoltura. Nemmeno il Molise è zona bianca. Noi abbiamo delle infiltrazioni, come giustamente ha detto lei, ce le abbiamo soprattutto nell'area Termoli basso Molise e ce le abbiamo nell'area Venafrana. Però ci sono alcuni settori che sono più sensibili ad essere infiltrati, quali l'edilizia e quindi con il lavoro nero, quali alcuni settori dell'agricoltura e del movimento terra. Oltre ai settori tradizionali, ma qui siamo più a livello di spot nell'ambito della ristorazione e dei servizi. Noi abbiamo la necessità quindi di contrastare questo fenomeno per evitare che le mafie da infiltrate facciano il salto quantitativo e diventano e si vanno a radicalizzare sul territorio. La radicalizzazione sul territorio significa la perdita della libertà economica per le nostre imprese e significa anche una degenerazione del tessuto, non solo economico ma anche sociale, un decadimento sociale. Quindi noi siamo a disposizione di tutte le imprese per dare ascolto alle imprese e poi siamo in contatto diretto con le forze dell'ordine e con i carabinieri in particolare perché abbiamo sottoscritto un protocollo che ha il compito, speriamo, di poter come obiettivo contrastare questi fenomeni mafiosi. Perché non esiste una mafia ma esistono una serie di mafie perché ogni regione ha la sua mafia a livello, esiste l'Andrangheta, esiste la Camorra e tutti cercano di entrare in un territorio come il nostro. Qual è la materia dove più è attaccabile il Molise? Qual è il comparto più a rischio? Innanzitutto sono, come ho detto, i comparti più a rischio sono il settore dell'edilizia, ma perché? Perché lì rispetto alle aziende che hanno in regola i loro dipendenti è evidente che nell'edilizia c'è tanto lavoro nero. Tanto lavoro nero significa essere competitivi e quindi sbarazzarsi delle aziende che lavorano secondo la normativa vigente. È evidente che con una manovolanza a basso costo la mafia cerca di entrare in questo settore qui, come nel settore Movimento Terra. Quali sono i maggiori timori, le paure dei vostri associati, dei commercianti? Ma guardi, io ho più che paure, io penso che molti commercianti sottovalutano il fenomeno e nel momento in cui poi sono soggetti, soprattutto noi stiamo ancora in piena pandemia, quindi c'è anche una crisi da parte delle aziende di liquidità e i timori sono soprattutto di andare sotto usura. A firmare il protocollo d'intesa Paolo Spina, presidente di Confcommercio, è il tenente colonnello Alessandro Mennilli, comandante del reparto operativo del comando provinciale Carabinieri di Campobasso.